La Chirghisia Allora, parliamo della Chirghisia. Che cos'è la Chirghisia? La Chirghisia è un paese nato per produrre vergogna in tutti i governanti occidentali, in tutti coloro che occupano un posto di potere. La Chirghisia è un paese organizzato sul buonsenso, quindi nessuno lavora più di tre ore al giorno. Qui le persone in Occidente sono condannate al lavoro, è un ergastolo. Nessuno può amare ciò che fa perché 9, 8, 9, 10 ore al giorno. Là lavorano tutti tre ore al giorno. I bambini giocano nei parchi fino a 18 anni. Non c'è questa sevizia ipocrita e assolutamente distruttiva della scuola. I bambini lì imparano tutto. Penso, ho fermato un bimbo che correva e attraverso l'interprete gli ho chiesto cos'era il fegato, un bambino di 7 anni, mi metto una centralina energetica a base di glucosio che produce energia per il corpo umano, vado a giocare, è notato a giocare. E capisci? Poi un altro gli ha detto, quanto fa 8.624 per 352, 72.323? Tac, ha risposto subito. Ma com'è possibile? C'era una bambina che si allacciava una scappa e gli ha detto, do you speak English? E lei mi ha guardato e mi ha detto, I speak 7 languages, 7 lingue. Allora gli ha detto, ma com'è possibile che questi qui, giocando tutto il giorno, sappiano tutte queste cose? Allora mi ha detto, vedi quando piove qui ci sono tutte case, la casa della geografia, casa della storia, casa del silenzio, casa della matematica. E quando piove che non si può proprio giocare bene, allora vengono in questa casa e dicono che sono tutti compiute e chiedono, chiedono cos'è una rana? Rana, batra, cosa ta 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 ta. Il bambino, chiedendo ciò che gli interessa di sapere, vive questo godimento estremo dell'imparare. Imparare è una cosa fantastica, mentre studiare è una sevizia, è una sevizia sinistra, perché è come obbligare qualcuno a mangiare qualcosa che non ama e soprattutto quando non ha fame. È una cosa terribile. E sono le madri stesse qui in Occidente che consegnano le vittime a questi innocenti torturatori che sono gli insegnanti, il cui difetto più tragico è che sono innocenti. La kirghizia però non esiste. No, la kirghizia esiste perché qualsiasi progetto che può facilmente esistere, esiste. Esiste in quanto si potrebbe realizzare in qualsiasi paese. Io sfido qualsiasi organizzatore di un qualsiasi paese a verificare quale sarebbe la difficoltà di regalare una casa a tutte le persone che compiono i 18 anni. Sai che l'hanno scoperto loro questo? Hanno scoperto che con i soldi che si spendevano prima, come qui in Italia, per le prostitute, la droga e le armi, si poteva invece regalare una casa a tutti i cittadini e anche un pranzo gratuito al ristorante. Poi lì nessuno va in pensione perché quando una persona compie 60 anni ha diritto a tutto gratuito, come i vostri deputati, poveretti, che hanno tutto gratuito perché non hanno neanche la dignità del voto i vostri deputati. Quando devono andare a votare, non possono votare a secondo coscienza, devono votare a secondo dettame, capisci? E allora non avendo neanche la dignità di essere ciò che sono, gli danno sta busta con 30.000 euro, insomma, mensili, per cui dicono, vabbè, non avrò dignità, però c'è 30.000 euro che è l'operazione più miserabile che si possa fare. Il tutto qui in Occidente è strutturato su una miseria morale assoluta. Solo in Occidente? Diciamo che l'Occidente io lo conosco meglio dell'Oriente, non escludo che l'Occidente sia stato abbastanza tempo in Oriente per creare anche là qualche miserabile situazione, tipo, per esempio, in Kirghizia. Perché non ci sono macchine come qui a Roma che per sei ore al giorno spandano proprio ossido di carbonio, così, perché hanno fatto i mazzapiedi mobili, veloci per i giovani, lenti per gli anziani, e allora le persone guardano, si toccano, si parlano. Io devo dire che io per primo ho provato vergogna per come qui sono organizzate le cose, capisci? Infatti quando io ho detto a Shehade ma è difficile essere poeti e famosi mi riferivo a ciò che accade qua, perché qui, io per esempio conosco un ragazzo di Prati che secondo me è uno dei più grandi poeti che siano mai nati in questo paese. È grande di più di Garzia Lorca, è un personaggio straordinario. Nel quartiere Prati di Roma? Sì, modestissimo. Lui è uno che parla tutto così, che non viene neanche preso in esame, un essere inesistente. Eppure lui è un grandissimo poeta. Bene, la Kirghizia è al tempo stesso il sentimento del vivere, non si può chiedere a una persona di assentarsi dalla vita nove ore al giorno, per procurarsi i mezzi per campare. è una cosa di una ottusità, di una ferocia senza limiti, capisci? E allora questa invisibile dittatura dell'obbligo che c'è per esempio in questo paese, in questo paese tutto è d'obbligo e niente è spontaneo, persino c'è la scuola dell'obbligo, figurati, tutto è d'obbligo. È un gigantesco penitenziario l'Occidente, dove le persone, grazie alla natura, riescono, ciò nonostante, ancora a parlarsi, ancora a incontrarsi, ma per esempio non esiste la cultura dell'amore, proprio non c'è. È concessa la cultura della procreatività, dove, per così dire, i servi si moltiplicano, ma l'amore no, nessuno andrebbe a lavorare la loro ragione se avesse conosciuto anche una sola volta nella vita cosa accade davvero fa un uomo e una donna quando davvero si amano, quando davvero si conoscono, quando sanno come è fatto questo portento straordinario che è il loro corpo. qui non sanno niente nessuno, niente. Allora, io penso che questo sia un documento che riesce a far capire il disastro socio-culturale dell'Occidente. Un documento inoppugnabile. Basta che uno lo lega, io l'ho scritto con la struttura mentale di un bambino di quattro anni, non c'è la minima traccia di ideologia, per fortuna, c'è semplicemente la volontà di un popolo di disubbidire con amore a qualsiasi norma meno che ha il buon senso. Là, per esempio, politicamente c'è solo l'unanimità, non esiste la maggioranza. L'unanimità perché? Perché chi non è favorevole a un progetto deve spiegare perché. E spiegando perché è migliore il progetto. E quando il progetto è migliorato perché non dovrebbe essere d'accordo. Qui c'è la maggioranza, per cui se domani, mio caro, ci svegliamo che la maggioranza ha deciso che bisogna tagliare un braccio a tutti i cittadini, noi ci dobbiamo tagliare il braccio, hai capito? La maggioranza. Cos'è la maggioranza? È una feroce e invisibile dittatura. Siccome poi in Occidente le maggioranze sono allevate per non sapere niente, il cerchio si chiude. Chi decide, decide chi non sa nulla. Hai capito? Io non vorrei però che qualcuno pensasse che io sto criticando qualcosa. Io sto leggendo in diretta ciò che vedo tutti i giorni davanti ai miei occhi. Grazie al cielo rimasti occhi intatti di bambino perché io ho avuto questa fortuna immensa di non andare a scuola fino a 11-12 anni. Quindi i miei occhi sono rimasti affamati di semplicità e di realtà. Questo disastro dell'Occidente dipende dal denaro? dipende dal fatto che quei poveri esseri che hanno solo il denaro hanno detto colleghiamo tutto col denaro, anche i sentimenti. Così noi che controlliamo il denaro controlleremo i sentimenti, la cultura, la poesia, tutto, tutto, tutto. Quindi non è il denaro, è l'uso che si fa del denaro. Il denaro è utile, come sono utili le fogne, ma non si può pensare a una cultura delle fogne. Il denaro è utile per non andare dal bottegaio con la pecora intorno al collo e dire mi dà due etti di formaggio che io le do la pecora. Il denaro ha questa utilità, ma è la mistica del denaro che è mostruosa. Io ho conosciuto, sai, qualcuno di questi mentecati che si occupano di numerini. ho conosciuto gente che aveva un reddito di duemila miliardi al giorno e non aveva neanche la possibilità di fare un pasto, mangiava così, aveva il lettuccio sull'aereo privato ed era tormentato sempre da questi numerini. Allora l'anno scorso due, due, sette, cinque, quest'anno due, ma ti giuro, ti giuro, e uno di questi aveva una casa immensa tutta nell'oscurità, una villa che ci voleva la bicicletta per attraversare l'ingresso. E questa villa dove i servi si muovevano col passo felpato, dove c'era la prostituta da cinque milioni a sera che andava lì, di una mestizia e di uno squallore senza limiti. quindi non è mai la realtà di essere negativa ma è l'uso che se ne fa. Io non ho niente contro l'automobile ma mi fa orrore l'uso che se ne fa. Tu pensa come sarebbe semplice a Roma che le quattro strutture principali, non so, il comune, la RAI, i ministeri, dicessero voi ragazzi da domani venite a lavorare alle dieci, voi alle nove, voi alle otto, voi alle undici, voi a mezzogiorno in modo che le macchine passano ma non si fermano a depositare tonnellate di gas per strada costringendo questi altri mentecati delle news, non so RAI news ma in genere dei telegiornali a dire è meglio che i bambini e gli anziani non escano col caldo perché l'ossido di carbonio potrebbe intaccare i loro polvori, hai capito che miseria, hai capito che miseria, invece di dire dislochiamo gli orari non devono uscire i bambini e gli anziani hai capito comunque io dico queste cose perché sono cose secondo me che leggono il cuore di tutti compreso il tuo e anche quello suo ma nella normalità nel 99,99% del nostro tempo noi non ce ne rendiamo conto no perché siete stati accecati con progressione no? accecati dalle necessità dall'incertezza dalla scuola dall'esame dal fare presto dal mi raccomando che c'è poco tempo tutto questo crea una cecità assoluta per cui la persona non vede più altro che quello che le consente di sopravvivere non vede l'autobus vede che deve spostarsi un po' se no l'autobus gli va addosso capisci? non vede più niente non vedendo più nulla vive una cecità anche più più tragica del cieco perché il cieco a modo suo impara nuovamente toccando le cose pensa che nessuno tocca niente ed è così bello toccare le cose e toccare davvero una donna guarda che io mi sono informato con centinaia di donne nessun uomo le sa toccare con quella delicatezza incredibile che risveglia nella donna tutto il suo fulgore la sua fragranza che la trasforma in un corpo d'aria e allora si può cominciare il gioco d'amore ma nessuno sa nulla capisci? e sono come persone prese così a casa messe su un giambo e dire dai guida ma il corpo umano è ancora più portentoso di un giambo ed è di un cinismo illimitato dire a delle persone che lavorano sono sequestrate 9 euro al giorno al lavoro che devono fare ginnastica che devono mangiare con la dieta ma comincia a farle vivere le persone che così sapranno anche cosa mangiare e anche cosa fare se invece di fare ginnastica potessero correre con i loro figli nei parchi e conoscerli fare le gare con i loro figli giocare 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 mi avevano detto che avreste trasmesso anche un pezzettino di un mio film invece non lo fate no mi sembra molto più interessante quello che sta dicendo beh ma io ci tenevo ecco questo per esempio è il mio film il giardino delizio che è un film che ho fatto per considerare ma in questo senso si lo trasmettiamo per farlo vedere in questo senso qui ma non come pezzo proprio autonomo vabbè non mi importa vedi questo questo è già di una delizia si lo vogliamo proprio sentire? no 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 qui siamo liberi no 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 io volevo far sentire il bambino un bambino di Damore si vive che è portentoso quello mi interessava questo questo non è giusto farlo sentire perché è un film molto falato di atmosfera ma quello che stavo dicendo è questo che l'Occidente si presenta come una realtà stracolma di ospedali di farmacie ma guardate che una persona libera non si ammala mai in Kirghese c'è solo un ospedale nella capitale un ospedalino nella periferia ma tanto sono simili vuoti perché quando uno ha gli viene regalata la casa da 18 anni figurati ha tolto tolto l'incubo della casa ha un pranzo gratuito al ristorante ha tolto l'incubo della sopravvivenza ha tre ore al giorno di impegno lavorativo che esegue con grande passione perché sono tre ore e ventuno per sé pensa io posso incontrare i miei amici i miei figli i miei amorosi i miei amori uscire da questo tetro antro della monogamia che se uno incontra una donna ha la disgrazia di dover andare con lei tutta la vita oppure come alternativa di nascosto il sabato con la prostituta capisci in Italia ci sono circa 18 milioni di italiani che ogni sabato vanno con la prostituta e tutti fanno finta che non ma no che non è così capito in realtà l'industria della prostituzione produce intorno ai 210 mila miliardi di lanno neri lo Stato nel frattempo ha imparato a dire che non ci sono soldi nessuno gli chiede dove sono per cui sai per cui non lo so fammi una domanda perché io ho troppe cose da dirti ma proprio per quello non faccio domande perché non ce n'è bisogno e si crea comunque un filo che è il filo proprio di chi parla se lo interrompo io non è più quello proprio di chi parla ma diventa il mio e mi pare che qui c'è bisogno di libertà è una delle cose più forti che stiamo dicendo sì sì ma pensa che le persone tutte non si accorgono che gli è stato impedito questo stupendo strumento della creatività capisci non si accorgono che non stanno scrivendo un libro che non stanno disegnando che non stanno dipingendo che non stanno cantando che non stanno giocando non si accorgono perché è diventato sottinteso che tutto ciò è bandito lo faranno magari quando andranno in pensione pensa che è orrore pensa che cinismo quando uno va in pensione finalmente può fare persino la vecchiaia adesso comincia a essere descritta come qualcosa di macabro e terribile chissà che qualcuno non si suicidi così pagano qualche pensione in meno pensa che miseria in realtà la vecchiaia è la stagione più straordinaria della vita più straordinaria sicuramente della giovinezza e della maturità è una stagione in cui la persona finalmente può contemplare il mondo finalmente può davvero esprimere la tenerezza finalmente può creare può lasciare una traccia eterna della propria presenza su questo pianeta che è unica e irrepetibile in tutto l'arco immenso dell'eternità e tutti invece fanno finta che siccome forse c'è un'altra vita vediamo un po' no? tanto quindi quando tu mi domandi se la chiesa esiste io dico signori utilizziamo tutta quell'immensa energia che viene impiegata a credere che esista qualche realtà assolutamente invisibile e remota per chiedere che esista è un progetto semplice umano elementare di organizzazione del sociale dove le persone vedi questa copertina è intelligente perché ti fa vedere la natura ma una natura armonizzata dall'uomo vedi? non è una natura dove l'uomo ha fatto scempio ma dove l'uomo è proprio una natura chirghisa penso che in chirghisa la cosa più frequente che vedi sono queste tavolate con due o trecento commensali dove c'è sempre un piatto vuoto per qualcuno se per caso arrivasse dove essere ospiti è la cosa più naturale del mondo ci sono due tipi di governo visto che i politicanti l'ha i politici anzi l'ha i politicanti l'ha politici fanno del volontariato non vengono pagati quindi sono le persone migliori qui sono qui sono tutte veramente delle prostitute di grandusso nel senso che vengono pagati per amare il mondo ecco questo è il bambino io vorrei sentire ho avuto proprio un rapporto sessuale non ho avuto proprio un rapporto da toccarci e baciarsi se racconta non è tu no con la mia amica ero venuta qui a casa mia allora mentre giocavamo gli spiegavo che cos'è il rapporto sessuale no capito no cioè che provi piacere che provi bene che provi l'amore che provi tutte provi insomma cioè pensi delle cose fuori da normale quando fai l'amore no giusto spieghiamo chi è questo bambino chi è questo bambino questo bambino è un bambino chirghiso nel senso che è un bambino che ha avuto la fortuna avendo un padre così che non c'era mai una madre che faceva la lavapiati ha avuto la fortuna di crescere per così dire nella realtà e di andare pochissimo a scuola quindi ha una sua fortissima filosofia una sua cultura una sua purezza una sua disponibilità anche a scoprire il mondo dice delle cose straordinarie dopo e qui non è il caso di far sentire tutto ma è un bambino che fa parte di una mia inchiesta che si chiama D'amore si vive è una ricerca sulla tenerezza la sessualità e l'amore che in chirghisa sono state riunite attraverso il fatto che chi desidera fare l'amore in chirghisa si mette un fiorellino azzurro sul petto in modo che tutti lo sappiano che lui desidera fare l'amore e allora tenerezza sensualità e l'amore si sono ricongiunte mentre qui in occidente sono state separate e allora cosa ho scoperto in questa ricerca che la tenerezza senza sensualità e amore produce ipocrisia la sensualità senza tenerezza e amore produce pornografia e l'amore così senza sensualità e tenerezza produce misticismo e infatti noi viviamo in una società eminentemente ipocrita pornografica e mistica non c'è dubbio su questo io l'ho scoperto come si scoprono i funghi dopo la pioggia ho intervistato settemila persone a Parma me ne sono rimaste sette in mano e queste sette fanno questo film che si chiama D'amore si vive uno dei film che la RAI ha comprato appunto per non far vedere gli italiani dentro i nostri cuori probabilmente c'è quasi tutto quello che abbiamo detto in questa mezz'ora quasi nei cuori di tutti quasi nel profondo di tutti c'è molto di questo ma allora perché non lo facciamo siamo vigliacchi è una questione è una questione problema al microfono lo risolviamo al volo arriva il nostro tecnico perché non siamo in Kirghisa dove i microfoni si riparano da soli ma qui bisogna rimetterlo in sesso altrimenti non si sente più niente importante sentire adesso senza sentire poi diventava un problema dunque ma io io ho portato siamo vigliacchi che non riusciamo poi a metterli in pratica se un po' la pensiamo tutti così no non è una questione di vigliaccheria è un po' come uno dice ma come mai per vent'anni in Italia tutti andavano con la camicia nera al sabato fascista è possibile che non ci fosse uno che si ribellava sai qui oggi ribellarsi all'ordine costituita è molto più pericoloso che allora in quanto non c'è una struttura pubblica che è incaricata di farti bere l'olio di ricino se tu non obbedisci ma c'è una struttura invisibile privatizzata si è privatizzata persino la repressione dove il tuo vicino ti guarda con occhio scandalizzato se tu fai un gesto di libertà qualsiasi capisci non è una questione di biaccheria è una questione da un lato di non avere il tempo fisico per riflettere alla realtà del mondo perché c'è questa ondata di bollette di pagamenti di incertezze di ma cosa farò fra 3-4 anni ma insomma i miei figli che monto troveranno c'è tutta questa giungla di disagio crescente che impedisce alle persone le stordisce impedisce loro di accorgersi che non stanno neanche più passeggiando ma che corrono anche quando è domenica capisci e allora le persone c'è una possibilità c'è una possibilità molto importante io invito le persone a guardare i bambini di 4 anni qualsiasi bambini di 4 anni e vedranno il capolavoro che loro sono stati e dal quale capolavoro questo tipo di società ha potuto solo trarre dei simulacri ma lo ha profanato in modo totale in quanto capolavoro se l'essere umano potesse crescere come cresce un pino o un abete sentendo tutte le istruzioni del proprio seme della propria interiorità noi avremo per le strade dei capolavori ambulanti ognuno avrebbe la sua visione del mondo e il mondo sarebbe ricco di infinite interpretazioni e questo sarebbe profondamente commovente io auguro veramente che questa umanità inciampi in un sentimento di libertà e lo esiga lo esiga come un affamato è giusto che esiga di mangiare come un assetato è giusto che esiga di bere io non credo che ci sia altro da aggiungere non dirò nient'altro ricordo soltanto che molto di questo che abbiamo sentito direttamente dal suo autore Silvano Agosti è in questo libretto ma tutto il resto è nei cuori di ciascuno che lo leggerà che lo immaginerà che ci rifletterà grazie a Silvano Agosti